eccoci e bentornati sul mio canale finalmente la guida che mi avete chiesto a gran voce un nuovo metodo per scaricare gratuitamente la beta di call of duty black ops 4 vorrei ragazzi un bel mi piace da tutti quanti voi che state vedendo appunto questa guida e condividetela con tutti i vostri amici ringrazio il sito optima italia.com che ha trovato questo metodo e vi faccio vedere tutti i passaggi che ho completato step dopo step seguendo questa guida che funziona effettivamente soltanto però per i possessori di terminale android non ios andate sullo store di google e vi scaricate l'applicazione di sony xperia lang vi fate la registrazione quindi fate l'account con google oppure entrate con quello vostro di facebook fatto questo entrerete in una schermata troverete in alto call of duty black ops 4 non andate lì andate sotto nella schermata gioca a call of duty black ops 4 cliccate sul tasto avanti ovviamente accettate quello che vi chiede e vi darà praticamente il codice cliccate su riscuoti ora lo andate a copiare vi apre la pagina praticamente del sito ufficiale di call of duty decidete se steam psn battle.net xbox o account activision inserite il codice fate riscatta e vi daranno ben quattro codici ragazzi i quattro codici che state vedendo che ho fatto con il mio account ve li regalo li potete utilizzare il più veloce praticamente li potrà riscattare sulla sua ps4 ma ovviamente tutti gli altri ragazzi basta e faranno questo passaggio per avere dei codici praticamente da giocare direttamente su ps4 io l'ho testato su playstation 4 come vi dicevo non so se il metodo funziona anche su xbox o pc fatemelo sapere qui sotto nei commenti tanto un metodo veramente velocissimo e poi l'applicazione la cancellate spero che questo video sia stato il vostro gradimento l'ho fatto veramente con tutto il cuore ho cercato in tutti i modi di farvi vedere una guida per risolvere il problema che tante persone purtroppo non hanno la possibilità di preordinare il gioco e quindi volevano provare la beta un bel mi piace massima condivisione al video ringrazio marco che mi ha segnalato la guida nei commenti e il sito optima italia.com che ha trovato questo metodo infallibile e noi ci vediamo ad un prossimo video